Una vasta operazione condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria e coordinata dal procuratore capo della DDA Federico Caffiero de Rao ha portato questa mattina al fermo. Di 11 persone, in manette ai fiancheggiatori del latitante boss Marcello Pesce, fermato lo scorso dicembre, è a capo di una vera e propria organizzazione capillare composta dai suoi fiancheggiatori che per anni lo hanno protetto e una vasta potenza economica in grado di controllare settori legali e illegali della finanza. L'operazione Recherche ha permesso dunque di tracciare il perimetro della nuova società di Rosarno, rigenerata dopo gli arresti e le condanne degli scorsi anni sotto la guida del boss e stratega Marcello Pesce. Un soggetto, così come emerso dalle indagini, dal profilo atipico, colto, raffinato, amante della bella vita e per lungo tempo impegnato in trasferti internazionali e salotti mondani, un vero e proprio stratega dei modi garbate, dalle letture erudite che gli ha consentito di gestire i rapporti riservati con la politica, la massoneria e i settori deviati dalle forze dell'ordine. Seguendo le direttive del boss Marcello, il clan di Rosarno stava dunque ricominciando a costruire il suo impero a partire da una rete di società attive nel trasporto su gomma e dei prodotti ortofrutticoli. Un settore gestito in regime di monopolio dai pesce grazie ai soliti metodi di eliminazione della concorrenza tramite violenza, minacce e intimidazioni, senza tralasciare comunque il ricco business del traffico e spaccio di stupefacenti. Particolarmente attivo poi il figlio del boss Rocco Pesce, fermato questa mattina all'alba dagli investigatori, componente del primo livello della filiera di comunicazione con il latitante e il giovane Pesce, seguendo le direttive del padre, si occupava del controllo e del coordinamento delle attività dilettuose, teneva ai rapporti con gli altri affiliati e con gli esponenti di vertice di altre cosche e gestiva alcune aziende agricole, è un centro scommesso e intestati a prestanome e un fiorente traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione che riguarda 12 appartenenti alla cosca, per la verità ha selezionato 12 esponenti di rilievo della cosca. Diciamo all'esito dell'arresto di Pacello Pesce, i soggetti che hanno preso in mano la cosca e l'hanno portata avanti nelle varie direzioni, da un lato le attività criminali, dall'altro le attività economiche sostenute dall'intimidazione, dal condizionamento, dalla forza della cosca di affermarsi e quindi di controllare anche quel settore specifico in cui si sono inseriti il trasporto su gomme, nel caso specifico. La cosca non ha bisogno di rafforzarsi perché è ancora presente sul territorio, nonostante i numerosi arresti continuano ad avere una propria organizzazione, una struttura ancora operativa. Tanti sono gli elementi che ancora in libertà si muovono per la cosca. Di volta in volta si riesce ad acquisire un quadro indiziario grave nei confronti di una parte di essi, per lo più coloro che operano per la cosca e si procede all'arresto. Oggi per esempio mi è sembrato particolarmente sorprendente che in occasione della traduzione degli arrestati fosse presente una folla così numerosa e mi sembrava di essere tornata agli anni 70, anni 80, in cui gli appartenenti alla cosca andavano a salutare i vertici che venivano tratti in arresto e per la verità è un segnale certamente non positivo.